120.000 euro per il ripristino del tenso statico del complesso Bucicchio a Sant'Elia e 130.000 euro per la sistemazione del capo di atletica di Masseriola. Sono questi gli interventi che la nostra amministrazione di centrodestra ha previsto lo scorso anno e che tra giugno e luglio verranno l'immediato inizio dei lavori. Interviene così sulla questione degli impianti sportivi Mauro Dattis, candidato sindaco del centrodestra, a margine di un incontro avuto col Coni. Con questi interventi si dà definitiva soluzione all'abbandono del tenso statico di Sant'Elia e si sistema la parte di pista rovinata dalle radici del campo di atletica di Masseriola. Lì si interverrà sul cordolo, sulle tribune, sui servizi igienici, sull'impianto di illuminazione, sul matto erboso. Credo che sia la migliore risposta alle questioni poste, a volte con troppa demagogia. Questa è la dimostrazione che abbiamo amministrato con scrupolo su tutto quanto ci è stato consentito di fare e per questo possiamo a testa alta candidarci a governare bene per i prossimi anni. Lo sport è argomento che sento particolarmente, dice Dattis, avendo svolto con tanta passione l'incarico di assessore a ramo in passato. Ammetto le critiche ma non posso accettare che chiunque spari nel bucchio. Ho contattato personalmente il presidente Cainazzo invitandolo a dare giusta comunicazione di tutto questo al suo comitato provinciale, visto che la questione era stata sollevata proprio nei giorni scorsi in quella sede.